sembrava che la loro storia non avrebbe mai dovuto conoscere gli autofine e invece stando almeno alle ultime foto pubblicate da giuseppe porro i da platano e riccardo guarnieri sono felici di essere usciti da uomini e donne over e di aver iniziato a frequentarsi nuovamente fuori dagli studi elios dove il programma di canale 5 registrato non sappiamo ancora se di lasceranno effettivamente la trasmissione se invece torneranno ogni settimana per raccontare come vanno le cose è certo comunque che adesso hanno lasciato alle spalle un passato fatto di litigi e incomprensioni perché la lettera scritta da lui a lei parlava chiarissimo per chi non lo sa ancora vi visto che la puntata di uomini e donne non è andata ancora in onda riccardo temeva di perdere ida e le ha scritto una lunga lettera d'amore che l'ha spinta a dargli un'altra possibilità e a rivedersi per fare le cose sul serio cercando dei compromessi per evitare liti continue ci riusciranno chissà è certo tuttavia che la coppia ha iniziato a frequentarsi nuovamente perché il sito di giuseppe porro ha pubblicato delle foto e dei video che ritraggono entrambi insieme a brescia i due passeggiano percorso zanardelli la via dei negozi della città e mettono a tacere almeno per il momento tutti coloro che non hanno mai creduto alla bontà della loro relazione se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate like di supporto grazie a tutti